Il video testare gli uomini vi ha ingolosite, fra l'altro ragazzi che mi guardate andate a guardare quel video perché le donne vi testano, anzi a quelle che non vi testano ho detto di testarvi, quindi adesso vi testeranno tutte praticamente. Quindi ragazzi guardate quel video perché un po' come alle ragazze consiglio di leggere il mio libro sugli uomini per gli uomini per conoscere le armi del nemico, a voi dico la stessa cosa, dovete conoscere gli strumenti delle donne, insomma dobbiamo conoscerci a vicenda, altrimenti come facciamo a incontrarci? Allora faccio la parte 2 di quel video con un test di livello ancora più alto, gli uomini vanno testati da un punto di vista zezzuale, sono costretto a fare queste cose perché altrimenti gli algoritmi si arrabbiano, viviamo in un mondo strano. Che cosa vuol dire testare gli uomini da un punto di vista goloso? Capire quanto equilibrio hanno, che cosa vuol dire? Quando l'atmosfera si riscalda iniziate a fare qualche piccola allusione, qualche leggera velata allusione, ovviamente in maniera leggera velata, ragazze no perché insomma andiamoci calmi ok? Perché l'idea qual è? È quella di vedere come reagisce l'uomo, riesce a seguirvi da questo punto di vista, riesce a giocare con voi però non esagerando mai e neanche sentendosi a disagio, quindi vi segue nel flusso. Questo è importantissimo per testare se la persona che avete di fronte, l'uomo che avete di fronte è sulla vostra stessa lunghezza d'onda e si possono, diciamo così, presentare tre diversi scenari. Il primo scenario, il più tipico, è quello che l'uomo dà fuori di matto, ok? In chat succedono cose assurde che credo voi donne conosciate molto meglio di me, quindi l'uomo immediatamente trascende. Secondo me non è un comportamento opportuno, l'uomo deve saper cavalcare l'onda e mettere la donna a proprio agio, però sempre tenendo il polso della situazione, senza mai trascendere, arriveranno momenti più golosi, ma in quel momento ci si sta annusando, ci si sta conoscendo, insomma sono dei pre-preliminari. Comunque divertiamoci, ma sempre con criterio, ci stiamo conoscendo. Secondo scenario, quello che non sa più che pesci prendere, non mi fraintendete, cioè quello che va in ansia, aiuto, che cosa sta succedendo, insomma non va bene, tranne se non siamo veramente alle primissime esperienze, insomma siamo degli adolescenti, dei post-adolescenti, ma quando avete a che fare con un uomo, se un uomo si impaurisce per una situazione del genere, beh insomma tranne se non siete voi a voler condurre totalmente il gioco, totalmente, non va bene neanche questo. Il terzo scenario è quello che si auspica, cioè che prima di tutto il ragazzo capisca cosa state facendo, perché è anche possibile che la persona che avete di fronte non colga, certo se l'allusione è troppo velata lui potrebbe anche avere il dubbio, e comunque io consiglio anche la prima, le prime due volte di fare i finti tonti ai ragazzi, proprio per portare la ragazza a calcare di più la mano. Quindi se all'inizio lui fa il finto tonto, ci può anche stare, magari vuole che voi calchiate di più la mano da quel punto di vista. Ma poi quello che si spera è che lui riesca a seguirvi, in maniera tale da mettervi a vostro agio e rendere tutto quanto un gioco. Ecco, se riuscirete a divertirvi insieme da un punto di vista goloso, seduti a un tavolo, figuriamoci che cosa succederà sotto le lenzuola.